L'onorevole è già dal 2013 in Parlamento, quindi con la precedente, il governo, ovviamente all'opposizione, perché è del Movimento 5 Stelle, e noi abbiamo seguito molto le attività e le interpellanze parlamentari dell'onorevole, per cui abbiamo avuto piacere di invitarlo per intervistarlo, per chiedergli un po' qual è la situazione, cioè onorevole Gallinella, il governo giallo-verde a cui lei appartiene, è anche in una posizione importante, perché la Commissione Agricoltura è un istituto importante del nostro Parlamento, quanto ha la zootecnia, soprattutto le bovine da latte, perché qui siamo nel tempio della bovina da latte, questa è la fiera internazionale del bovino da latte di Cremona, quanto ha nelle corde questo settore, quanta è la sensibilità verso i problemi, ma anche le opportunità che ha per il nostro Paese questo settore. Innanzitutto, grazie dell'invito, così con l'occasione ho potuto anche conoscere questa fiera così importante, che l'ha detto lei, è la più importante sulla zootecnia da latte, e sono qui anche per dimostrare agli allevatori, a tutti gli operatori del settore che la politica è vicina. Oggi è un momento anche difficile per gli allevatori in generale, perché sono sempre guardati con cattivo occhio dal consumatore, perché forse non conosce la fatica che c'è dietro e l'amore che gli allevatori hanno nei loro animali, anche perché sono animali che alla fine gli danno il reddito, quindi se li tengono male qualcosa non funziona. Poi bisogna sicuramente combattere quelli che non rispettano le regole, oggi in Italia ce ne sono tante, però non bisogna fare di tutta un'erba un fascio. Noi vogliamo essere vicini a un settore del latte, perché i formaggi sono quelli, soprattutto quelli secchi, grafadano, parmigiano, reggiano, sono quelli che fanno il budget più grosso nell'export del nostro Paese, quindi vuol dire che è un settore che traina molto l'agroalimentare e dà molta occupazione. Sicuramente il futuro, per quanto riguarda il consumatore, bisogna convertire un po' il messaggio, inserendo forse nei prodotti qualcosa di etico e qualcosa che il consumatore possa riconoscere, dargli un valore aggiunto, perché forse oggi non basta più la denominazione d'origine, il consumatore vuole sapere non solo da dove viene la materia prima e quindi nella denominazione d'origine non c'è nessun tipo di problema, ma vuole sapere anche il percorso che ha fatto quel prodotto, dal punto di vista etico, l'animale, come è stato tenuto, quindi tutti questi fattori vanno trasferiti anche nel prodotto poi alla fine. Ci sono varie idee per percorrere la sostenibilità o la sensibilità e quindi la politica deve accompagnare l'allevatore in un percorso che non è solo di un miglioramento del suo stile di vita, magari non pensando più forse alla produzione di massa, ma una produzione non solo di qualità, perché oggi è già di qualità, ma una produzione più armonica con la natura, perché poi il consumatore cerca questo. Quindi come sistema paese dobbiamo essere in grado di fare un certificato riconoscibile al consumatore che magari è anche disposto a spendere di più. Questo forse è un percorso che oltre l'utile dal punto di vista dell'ambiente, del benessere animale, avrà un valore aggiunto anche nelle tasche dell'allevatore. Questo tra l'altro è un percorso che si incastra perfettamente con la nuova politica agricola, perché la nuova politica agricola vede che il paese debba adottare dei piani strategici con degli indicatori nazionali, quindi dovremmo fare uno sforzo come Italia, perché l'agricoltura è molto regionalizzata da noi, in modo tale da convergere su alcuni percorsi. Uno di questi percorsi potrebbe essere proprio quello che indicavo prima. Noi ce la metteremo tutta per fare squadra e sistema con questo obiettivo. Grazie Onorevole. Avevamo già parlato a telecamere spente di qualcosa di questo tipo. In effetti lei vede questa fiera al di là di essere una fiera di settore, dove ci sono i vari componenti dell'economia della filiera del latte, però come le dicevo così a telecamere spente, molto spesso noi veniamo qui anche per sentire gli umori, perché venire via dalla fiera di Cremona con un umore positivo di un settore in espansione in cui anche la politica ci dà un occhio. Lei è giovane, nella storia di questa fiera c'è sempre stato un rapporto molto conflittuale, ad esempio con i ministri dell'agricoltura, io mi ricordo dal ministro Pandolfi in avanti, quindi me ne ricordo un po'. Pandolfi delle cuote latte? Pandolfi delle cuote latte. Percorso gestito malissimo però, si può dire questo? Percorso gestito male? Onorevole, io mi ricordo, perché nel convegno, non mi ricordo il giorno, ma io ero presente, quando fu detto che forse le cuote latte non sarebbero state poi effettivamente un problema per l'Italia, invece hanno frenato molto lo sviluppo del nostro paese perché noi non abbiamo ancora l'autosufficienza nella produzione, per cui è stato un atto anche piuttosto grave che se ne sta uscendo, ma non la voglio imbarazzare in una domanda così complessa. No, non mi imbarazza, però ci tengo a dire che è un percorso che è nato negli anni 84, quindi io proprio con la politica ancora non sapevo neanche leggere, quindi è un percorso nato male, però l'obiettivo secondo me delle cuote su alcuni prodotti forse bisognerà che nella futura OCM bisognerà pensarci perché la liberalizzazione delle cuote latte ha fatto sì che qualsiasi produttore poteva produrre quantità, quindi non dare il mercato e quindi si abbassa il prezzo perché noi siamo in un mercato comune, quindi forse pensare a un contingentamento di talune produzioni con sistemi dell'OCM, del controllo dell'offerta è fondamentale per stabilizzare il prezzo. Che è successo con lo zucchero? Liberato lo zucchero in Italia è quasi sparita la produzione del zucchero. Sul vino si è passato da diritti di impianto alle autorizzazioni però con un contingente dell'1% all'anno, però se andiamo sul settore nessuno vuole togliere quell'1% e dire mettete tanti vigneti quanti volete perché al di là che poi si potrebbe perdere la qualità con una superproduzione questo è evidente, il problema è che dopo il prezzo scende perché se il mercato non riesce ad assorbire la quantità prodotta perché trovare nuovi mercati, nuovi sbocchi e difficili sono considerazioni che io riprenderei. Non riparliamo di quote ma di un sistema nel futuro per stabilizzare il prezzo e la volatilità che oggi è l'obiettivo che la politica deve sconfiggere per dare stabilità a tutti gli agricoltori, allevatori quindi inclusi, è fondamentale perché se noi non permettiamo all'allevatore di pagare almeno lo speso, lui abbandona un territorio con tutto quello che ne consegue, al di là di perdere la biodiversità, la sicurezza idrogeologica e poi prodotti di un territorio e una storia quindi percorrere la stabilità dei prezzi è un obiettivo politico fondamentale, la PAC su questo punta ha detto anche che è più importante delle regole di mercato e della concorrenza quindi noi dobbiamo usare questo strumento, io farò in modo che la politica e le discussioni politiche possano uscire con un messaggio del genere perché sul cibo forse il cibo vederlo come commodity è molto pericoloso perché ci sono paesi per tanti motivi molto più competitivi di noi sul prezzo perché magari non hanno i stessi livelli sul lavoro di sicurezza, non hanno gli stessi criteri ambientali e stessi parametri e quindi è chiaro che competere con loro al di là delle estensioni che sono diverse dalle nostre potrebbe essere un rischio, noi dobbiamo lavorare su questi paletti e se noi riusciamo a interagire con l'Europa, con questo messaggio l'Italia innanzitutto proteggiamo la zootecnica e l'agricoltura perché io lo ricordo sempre è un presidio per il nostro territorio e poi possiamo portare, essendo che il nome Italia è ancora molto spendibile nel mondo, soldi freschi per arricchire e aumentare l'occupazione. Grazie di questo, quindi vorrei concludere questa intervista in questo modo, ha detto delle parole importanti, lei vede il nostro settore sta facendo uno sforzo impressionante per far uscire il latte e i suoi prodotti dalla palluta e dalle commodity e ci sta riuscendo perché le DOP e le IGP sono percorsi che hanno dato dei risultati positivi ma è chiaro che la competizione internazionale ha importante, quindi lo stimolo è la politica specialmente la sua sensibilità e anche nel ruolo importante che riveste all'interno del Parlamento di aiutare veramente questo settore che è strategico, è un asset strategico dell'Italia perché il lattiero caseario è un settore da 13,5 miliardi quindi non marginale di aiutare questo percorso di portare fuori e quindi questo è lo stimolo che lei ci ha dato e lo raccogliamo volentieri, il latte dalla palluta e delle commodity. Competere e chiudere i confini non è possibile, bisogna competere a livello non è auspicabile, competere a livello internazionale ma che il sistema Italia ci aiuti in questo percorso virtuoso. Io la ringrazio onorevole. Grazie a voi e voglio lasciare un messaggio al settore perché so che avete molti che vi seguono quindi noi saremo attenti, ascolteremo il settore e le problematiche, le porte della commissione sono sempre aperte, noi facciamo audizioni di continuo perché dal lato si apprende però noi dal nostro lato vediamo anche il mondo un pochetto più dall'alto rispetto al singolo allevatore quindi gli possiamo anche dire guarda che il mondo cambia, forse bisogna che ti ristrutturi un attimo e vai in un orizzonte un po' diverso e noi però su questo ti aiutiamo, non ti abbandoniamo. Questo è il messaggio che voglio dare. Grazie onorevole.